Palla Michelsen sull'esterno, la mette in mezzo della cella, chiude tutto. Può impostare adesso, infatti serve Ilario sulla fascia. Lo stop oltre il centrocampo, la porta avanti, vede il suo compagno, lungo linea, dove arriva la gala! Ah, incrocia benissimo, arriva il gol di la gala, perfetto il passaggio, azione ottima di Naba. La mette in mezzo della cella, il colpo di vita, Watanabe pare in due occasioni e riesce ad allontanare in questo caso Big Boys Club. Ci prova adesso con la percussione sulla fascia sinistra, se l'allunga forse un po' troppo, ma finisce il primo tempo tra Naba e Big Boys Club. La gala, cambia il luogo completo, il colpo di testa Watanabe, la tocca ma non la faccia un po' troppo. Il rosso è lunghissimo, non per tutti, per Griba è bisogno, scoppio e tiro! Il palo di bisogno, quasi un eurogoal! Buona Piero, buona! Buon ragazzo! Buon ragazzo! Addirittura di prima stazione l'idea, alla Dejan Stankovic, esitata l'uomo, buona idea. Perfetto salto nel cover a palla, questa è una transizione. Sapo, salto nuovo, vada perfetta, lo stop con l'esterno, il portiere di Nava Parra, rimane lì il pallone, sulla linea, la palla non entra, occasionissima per Big Boys Club. Bellissimo questo tocco, un guido troppo buono! Buona 14! Bellissima gol di Nava, Missana a decima di fare il pulizio di primavera, il 19 febbraio, da porre dal licrocio, la toglie Missana. Missana appena riduce dal gol, Missana di nuovo, Watanabe, non perfetto, palla che rimane lì ed è entrata! Entra in campo e fa gol, vita, 1-2 di Nava che fa 3 a 2. Kofin all'addetto dei rimessi. Adesso va a vedere il perché, in qualche modo il portiere Agopi alla manierina, spara, fuori! Cross che va troppo lungo e su questo calcio d'angolo finisce la partita tra Nava e Big Boys Club, vince Nava per 4 a 2. Sì! Sì! Sì!